E vediamo quindi quali sono questi trucchi psicologici per far innamorare le persone. È importante capire cosa significa innamoramento e che differenza c'è tra l'innamoramento e l'amore. Perché l'innamoramento è, diciamo, un'emozione. Un'emozione è semplicemente una tensione emozionale. Infatti possiamo anche innamorarci di persone che ci fanno soffrire. Ovviamente ho di persone che vanno a stuzzicare, a stimolare quelli che sono i nostri turbamenti, anche i turbamenti più profondi. Mentre invece l'amore, no. L'amore è la presa di coscienza che questa emozione che mi fa vivere una persona è un'emozione positiva e quindi si sviluppa amore. Tutti gli altri casi non sono amore. Quando avete attaccamento verso una persona, quando soffrite, vi struggete, no. Le pene d'amore non sono amore. Invece molte persone pensano che le pene d'amore tutto sommato siano amore. Questa è la cosa più falsa. Perché non è così? Ma vediamo quali sono i bias psicologici. Allora, intanto non si tratta di una psicologia normale, diciamo, della psicologia studiata nei banchi, nei squallidi dell'università. Ma si tratta di quello che potremmo definire psicologia oscura. La psicologia oscura cos'è? Quella che studia, se vogliamo, in modo, come dire, non didattico, cioè al di fuori da ogni didattica, al di fuori da ogni accademia, se vogliamo, studia i comportamenti degli esseri umani e quali sono le leve, anche quelle più turpi, per indurre una persona a fare delle scelte piuttosto che altre. Quindi la psicologia oscura studia in sintesi come mai le persone fanno ciò che non vorrebbero fare e quindi sono degli studi, diciamo, potremmo definire la psicologia oscura come l'utilizzo delle strategie che utilizzano delle persone, come dire, che in psicologia non vengono viste molto bene, no? Però utilizzate in modo pratico, pragmatico, non la struttura di personalità, ma semplicemente la struttura comportamentale. Quindi come si comportano le persone macchiavelliche, le persone ciniche, le persone, diciamo, mega, super, iperlogiche, egocentriche, narcisiste, insomma. Quindi, ma a livello comportamentale. Il presupposto è che se io metto in atto dei comportamenti funzionali a produrre innamoramento, riuscirò a far innamorare. È ovvio che, come lo ripeto, questo non c'entra niente con l'amore, no? L'amore è un altro pianeta, l'amore è un altro film e l'amore prevede molto di più, prevede anche una condivisione più profonda a livello di valore, a livello di credenze, a livello di contatto d'anima, di desiderare veramente la felicità dell'altra persona. E quindi sono due piani diversi. Però questi bias possono essere utili anche per capire come funziona, diciamo, come funziona la mente umana. Queste tecniche funzionano e in realtà sono utili, diciamo, se usate senza voler danneggiare gli altri, ovviamente. Ma sono tecniche che le persone naturalmente, alcune persone naturalmente utilizzano perché fanno parte del loro modus operandi. Ovviamente questa, se vogliamo chiamarla psicologia applicata, insomma, legata un po', tra virgolette, alla tria d'oscura. Ma in realtà, poi se andiamo a vedere, non c'è nulla di oscuro. Perché la manipolazione, se così vogliamo chiamarla, è antica. Antica, ad esempio, tanto quanto l'uomo. Esiste l'innamoramento sano che porta l'amore vero e maturo. Ma, dunque, l'innamoramento non è definito sano o non sano. L'innamoramento è una tensione emozionale, quindi non è questione di sanità o di non sanità, è una tensione che noi decodifichiamo come coinvolgimento, come innamoramento, ma in realtà è una tensione emozionale. Se questa tensione emozionale si evolve, diciamo così, in una situazione di benessere per la persona, quindi di piacere, non di sofferenza, allora potremmo definire che sfocia nell'amore. Se invece questa tensione, inizialmente emozionale, quindi sfocia invece in stati di sofferenza, in stati di, diciamo, infelicità, allora è che però non ci consente di uscire fuori dalla relazione, ci tiene in posizione autostatica. Perché il problema è che noi, grazie al vincolo, restiamo in posizione autostatica. Cioè, nessuno ti impedisce di andartene via dal narcisista per dire che è innamorato dal narcisista, se non le tue stesse paure, i tuoi stessi timori. La paura di essere abbandonato o la paura della solitudine, se vogliamo. Quindi abbiamo dei, come dire, un plagiatore interno che ci tiene vincolati, un lucchetto che ci tiene bloccati in una situazione negativa, nefasta, ma è un auto, come dire, bloccaggio. E questo nasce perché non siamo in grado, spesso non siamo in grado di fare atto di coraggio, perché imparando a fare degli atti di coraggio riusciremo a sbloccare, a rompere il lucchetto. E, dicevo, la comunicazione, tra virgolette, manipolativa è vecchia quanto, non quanto il mondo, ma perlomeno quanto la Bibbia, no? Eva venne manipolata dal serpente e poi a sua volta manipolò Adamo. Questo, diciamo, almeno nell'interpretazione classica canonica della Bibbia. Poi, diciamo, successivamente, probabilmente da altri studi, le cose andarono diversamente. Ma, diciamo che poi la psicologia manipolativa venne utilizzata in diverse situazioni, sempre quando la persona però è in posizione ortostatica. In posizione ortostatica, cosa vuol dire? Che o non vuole fuggire o è impedita di fuggire. Ad esempio, nei campi di prigionia coreani, ad esempio, nella guerra tra Stati Uniti e Corea, molti, quindi negli anni 50, molti soldati americani vennero indotti, diciamo, a, tra virgolette, come quasi una sindrome di Stoccolma, ma in realtà vennero manipolati per prendere poi le parti, tra virgolette, del nemico. che non usò la tortura fisica, ma utilizzò, diciamo, dei meccanismi di manipolazione psicologica, dei bias psicologici, essendo però questi prigionieri, ovviamente, in posizione ortostatica, perché non potevano andarsene, ovviamente, essendo prigionieri. Ma anche, diciamo, i condizionamenti pavloviani sugli animali, ad esempio, hanno generato dei condizionamenti. E poi anche la psicologia ha studiato i condizionamenti, ad esempio, Watson ha studiato, diciamo, Bandura, Skinner, insomma, un po' tutti si sono, diciamo, spinti sul condizionamento. Ad esempio, Skinner ha elaborato, diciamo, dei sistemi di condizionamento, il condizionamento operante o il condizionamento intermittente, che viene attualmente utilizzato per, diciamo, per indurre le persone, ad esempio, a, come dire, a giocare, no? Nelle slot machine. Va bene, quindi questo è un po' il tema. Negli anni Sessanta, Bandura, un altro grande esponente della psicologia comportamentale, ha riconosciuto i concetti del condizionamento classico, il condizionamento operante, facendo di suo, e nel Sessantuno ha presentato un esperimento tramite il quale ha dimostrato che, ad esempio, i bambini prestano grande attenzione ai comportamenti dei loro modelli, ossia delle persone che li circondano. Quindi, ad esempio, se acquisiamo potenziale su una persona, possiamo indurla a fare delle cose che normalmente, diciamo, che normalmente non farebbe. Ma le tecniche di psicologia oscura non sono soltanto utilizzate dai seduttori o dai sociopatici, diciamo, ma anche dagli avvocati, dai politici, dai dirigenti d'azienda, insomma, tutti coloro che in un modo o nell'altro, ad esempio, si vogliono vendere, vogliono persuadere. Quindi è fondamentale la manipolazione. Pensate a un venditore che fa leva sulle paure dell'essere umano. Pensate a un venditore, ad esempio, a un venditore di qualcosa, no? Se non fa leva sulle paure della persona o sull'invidia della persona o sui veleni mentali della persona, magari non riuscirà a vendere. Facendo leva proprio sui veleni mentali, andando ad amplificare i veleni mentali, noi possiamo ottenere dei risultati. Paradossalmente andiamo ad amplificare quello che bisognerebbe ridurre. Faccio un esempio. Se una persona, un venditore scopre che una persona è invidiosa dei suoi amici, potrebbe sfruttare l'invidia proprio per vendergli qualche cosa, per, che ne so, potrebbe essere un nuovo modello di cellulare, ad esempio, oppure un saluto anche a Wormall per dire un qualunque cosa sfruttando l'invidia. Potrebbe dire, certo che i suoi amici, se lui invidia... Oh, un saluto anche al grande Giorgio Cameli. Certo che, diciamo, potrebbe sfruttare proprio l'invidia per fargli vendere qualche cosa. Andando ad amplificare, certo che i suoi amici, loro sì che sono fortunati, guardi come la prendono in giro, lei che non ha questo, non ha quello. Certo è che se avesse questo nuovo modello di cellulare, o questo nuovo modello di qualunque cosa, o questo vestito, o questa cosa qua, come potrebbe suscitare l'invidia finalmente lei dei suoi amici? Insomma, in realtà non ti sto vendendo un prodotto, ma ti sto vendendo un mezzo per far morire l'invidia i tuoi amici. È evidente che se una persona non è invidiosa, non ha, non vuole fare invidia, diciamo così, non vuole, non è, come possiamo dire, il buyer-spersatore Rocco Siffredi. È interessante sempre quello. Quindi, se voi siete un venditore, potete utilizzare queste strategie manipolative per far acquistare un prodotto ai clienti. ma ci sono dei bias, ad esempio, molto interessanti che possiamo anche usare nella seduzione. Ad esempio, il fatto che noi agiamo sempre per confronto. Questa è una strategia di seduzione utile. Un venditore di case farà sempre vedere prima una catapecchia venduta a un prezzo altissimo per poi far vedere una casa normale, diciamo venduta a un prezzo normale, e questa verrà percepita come una casa bellissima. Perché noi agiamo sempre, questo è un bias, per confronto. Non esiste il bello in assoluto, non esiste il brutto in assoluto. Quindi, ad esempio, se tu vuoi fare una bella figura, cara Malgashona, esci con delle amiche brutte, orrende, antipatiche, cesse, che puzzano, che fanno schifo, se tu vuoi, che puzzano magari no, perché no, però, insomma, più cesse sono, più stupide sono, meglio è, perché, come dire, anche se tu non sei una gran bellezza, anche se tu non c'è tutta questa intelligenza, verrai confrontata con queste. In qualunque circostanza tu ti trovi. E, come dire, in terra di ciechi, il re che è un occhio solo, no? Riesci subito ad apparire come una donna interessante. Questo è un qualcosa che noi possiamo utilizzare per venire etichettati nel modo giusto. E una volta che ci viene messa un'etichetta, questa resta, anche se non c'è più il confronto. Ad esempio, anche se non c'è più il confronto, l'etichetta resta, perché se uno ti giudica, cavolo, questa è una figa, è una donna interessante, è una donna di classe, ma lo giudica perché ti ha confrontato rispetto alla cessa immonda, e allora, cosa succede? Succede che poi, successivamente, non è che dovrai sempre portarti dietro alla cessa immonda per la figlia di clinici che si chiama cessa, non è che dovrai sempre portarti dietro la cessa immonda per, diciamo, per apparire figa, perché gli esseri umani, un altro bias degli esseri umani è che mettono le etichette. Noi non possiamo fare a meno di etichettare le persone. Quella è figa, quella è intelligente, quella è una cessa, quella è stupida, quella è cretina, quella è ricca, quella è povera, lo facciamo automaticamente per semplificarci la nostra vita, lavoriamo per schemi mentali e, tra l'altro, ogni volta che l'etichetta viene messa, viene messo anche un'immagine mentale associata all'etichetta. Infatti, uno dei più grandi problemi, ad esempio, che noi etichettiamo anche le relazioni è quando l'immagine mentale, cioè l'etichetta che noi mettiamo che si esprime con l'immagine mentale, non riesce più a sostenere i cambiamenti che sono avvenuti, ad esempio, nella relazione, la relazione finisce, perché, fintanto che l'immagine mentale resterà costante, è ovvio che poi se l'immagine reale, diciamo così, si discosterà molto dall'immagine ideale, mentale, e a un certo punto non potrà più sostenerlo. Quindi, questo è un dato di fatto, no? Cioè, come dice giustamente Giorgio Camerito, a colpo di Walt Disney, che ha creato mostre eccesse, e anche, tra l'altro, le ha fatte, le ha fatte accoppiare, va bene, lì è un altro discorso ancora, però, quindi, questo è interessante, no? Noi dobbiamo farci etichettare nel modo giusto, quindi, non è che poi devi portarti sempre dietro al mostro di Loch Ness per apparire figa, perlomeno con quelle persone, perché una volta che la persona ti ha messo un'etichetta, quella è figa, quella è bella, quella è intelligente, quella è la donna giusta, allora resterai, a meno che poi a un certo punto non avrai un'immagine completamente diversa dopo un certo punto, però, se non, diciamo, fin tanto che riesce ad agire su alcuni binari, riesce a mantenere, riesce a mantenere questa cosa qua, per non parlare sono un poeta che ha sentito solo l'odore, ah beh, sì, l'ha sentito solo l'odore, però Dante, diciamo, ad esempio, sottolineava la gentilezza di una donna, no? Per cui, ad esempio, una donna dovrebbe essere gentile da un punto di vista logico, ma dovrebbe essere, e poi, come dire, più diabolica da un punto di vista emotivo, Dante Alighieri che nel Dolce Stil Novo non mi sembra fosse tanto gentile, tanto onesta, pare la donna mia quando è l'altrui saluta, con i lingua diviene tremando muta, una volta studiavano le cose del moro, con i lingua diviene tremando muta e gli occhi non le arriscono di guardare, quindi questa è un'etichetta, no? Della donna angelicata, comincia Dante Alighieri, è ovvio che questo, diciamo, un saluto a Roberta, questa, come dire, caratteristica della donna angelicata è fondamentale, perché è un altro bias interessante, tu a livello logico e razionale devi farti vedere donna angelicata, tanto gentile, tanto onesta, pare, per non innescare meccanismi di difesa, ma poi, a livello analogico devi utilizzare una serie di stratagemmi. Come fai a farti vedere donna angelicata? Beh, qua ci viene in aiuto anche la PNL, no? Il mirroring, limitazione del linguaggio del corpo, limitazione del linguaggio verbale, limitazione del, come dire, delle, dei canali comunicativi, visivi, di tipici anestesici, limitazione delle credenze, l'adeguarsi ai metaprogrammi, l'adeguarsi, diciamo, alla tipologia comportamentale della persona. Insomma, più informazioni abbiamo, più riusciamo a ricalcare, entrare, senza esagerare, ovviamente, ma riusciremo, diciamo, a ottenere dei risultati. Un'altra, un altro bias, un'altra delle strategie di seduzione che utilizzano le persone, che utilizzano i manipolatori, quindi per far innamorare, è quella di creare una forte tensione emozionale. Una forte tensione emozionale può essere anche una paura, perché noi ci innamoriamo di chi ci genera tensioni, quindi, da un punto di vista logico, sarai la donna angelicata, tanto gentile, tanto onesta pare. Da un punto di vista analogico, andrai a stuzzicare la paura della perdita, la paura del rifiuto, la paura della disistima, o proprio la paura in generale. Beatrice si è messa proprio a paura. Eh, esatto. Dante, però il naso di Dante, da un certo punto di vista, sarebbe potuto tornare utile a Beatrice in certe pratiche, ma comunque, lasciamo stare, perché magari il naso compensava. Vabbè, comunque, soprattutto le persone emotive sono molto sensibili a questo tipo di strategia, perché le persone emotive sono preoccupate, diciamo, una persona spaventata è molto più inclina a fare quello che si vuole, ma anche microtensione emozionale. pensate nel panico di un incendio, una voce grida presto, buttiamoci dalla finestra, oppure pensate a quello che è successo in Corea, no? Che sono morte 150 persone, 160, quanti ne sono morte, perché magari qualcuno ha generato una paura, certo, lì c'era la condizione che c'era la calca delle persone, però qualcuno ha generato paura, le persone sono subito entrate in movimento, si sono schiacciate una con l'altra. In realtà sembrerebbe che non ci fosse nessun pericolo, non ci fosse nessun pericolo reale fondamentalmente, ma quando viene diciamo amplificata o rigenerata una paura, le persone fanno cose che normalmente non farebbero, arrivano a schiacciarsi, arrivano a, perdono completamente, perché se lì fossero stati tutti ordinati, se non uscivano tranquillamente, se non ci fosse stata la paura che è generata diciamo anche senza esserci un pericolo reale, le persone non si sarebbero ammazzate. Era caduto anche a Torino, in piazza San Carlo, lì c'era qualcuno che ha buttato dei petardi e è successo il finimondo perché le persone pensavano a qualche tentato si sono accalcate. beh, la via stretta che vuol dire? Se era una via stretta non c'entra la via stretta, la via stretta diventa stretta quando le persone impazziscono, quando le persone non governano più i comportamenti, quando per mettersi in salvo da una presunta cosa che non c'era neanche schiacciano quello davanti, no? Quindi, quindi, se voi imparate a modificare l'ambiente, a modificare il contesto, potete generare delle paure e quando una persona vive una paura non ragiona più e quindi gli state dando, gli state fornendo, diciamo, un supporto emozionale molto forte e le persone possono veramente fare delle cose folli, insomma, e quindi anche innamorarsi fondamentalmente. anche le tecniche di confusione sono tecniche che fanno innamorare in qualche modo, anche diventare padroni dei problemi delle persone, chi detiene il tuo problema, cioè per meglio dire, chi detiene la soluzione del tuo problema ti farà innamorare, ma chi detiene la soluzione di un tuo problema che non avresti, a cui non penseresti se non te l'avesse qualcuno amplificato, quello detiene un forte potenziale nei tuoi confronti. Le persone che generano manipolazione, ad esempio, sfruttano il fatto che una persona nel momento di debolezza, di stanchezza, senza energia, si trova, diventa molto più accondiscendente, quindi non filtra più le suggestioni che vengono inviate, queste suggestioni tendono di passare dal conscio all'inconscio e arrivando all'inconscio tendono ad attecchire, quindi sono tutte strategie, diciamo, della psicologia oscura. Diciamo che nella nostra vita siamo stati tutti oggetti in qualche circostanza di manipolazione o anche di seduzione, diciamo in cui poi abbiamo sofferto, ma d'altra parte diciamo fa anche piacere leccarsi le ferite ogni tanto per essere stati sedotti dalla persona sbagliata, però la seduzione non ci deve agganciare alla persona sbagliata, questo è un altro punto fondamentale. diciamo che la persuasione o la manipolazione non sono la stessa cosa. Diciamo che la manipolazione e la persuasione si differiscono anche per l'intento soprattutto, perché il manipolatore o la manipolatrice ha l'obiettivo di ottenere un suo risultato senza dare una controparte al manipolato, cioè nella manipolazione c'è uno che ottiene e un altro che perde fondamentalmente, mentre la persuasione se viene fatta nel modo corretto prevede un'interazione. Io ti vendo un prodotto che però certo magari tu avresti potuto comprare un altro prodotto ma comunque acquistando il mio prodotto ne avrai dei benefici e quindi diciamo che c'è diciamo nella persuasione non c'è l'intenzione di ingannare mentre invece nella manipolazione spesso c'è l'intenzione di ingannare qualcuno. Le motivazioni della persuasione normalmente sono benigne e chi cerca di persuadere lo fa nell'interesse comune invece nella manipolazione spesso c'è l'inganno l'imbroglio si fa il manipolatore trae vantaggio e non non dà nessun vantaggio al manipolato nella persuasione non ci sono o nella seduzione anche in generale di fatto secondi fini e il tentativo di ottenere un risultato è comunque trasparente la manipolazione invece nasconde degli aspetti e più subdola da questo punto di vista chi ti manipola ti genererà sempre qualche problema ti amplificherà qualche problema e ti potrà indurre a fare delle cose di fatto svantaggiose per te mentre nella persuasione non c'è nulla da nascondere le intenzioni sono buone nella nella manipolazione le intenzioni non sono buone non sono per nulla altruistiche morte tua vita mea morte morte tua morte mea vita tua morte mea vita esatto beh la persuasione ad esempio sfrutta i famosi principi di Cialdini no ad esempio i principi della come possiamo dire che poi vengono anche utilizzati nella seduzione del farsi percepire come rari farsi percepire come preziosi questo è diciamo è una strategia è un bias tutto quello che noi percepiamo come raro prezioso poco disponibile lo valutiamo meglio tutto ciò che invece è immediatamente disponibile lo valutiamo di scarsa utilità insomma e tra l'altro anche per un effetto che si chiama effettalone che è un altro bias noi tenderemo a diciamo tenderemo a giudicare anche questa persona anche se la persona fosse la stessa più bella più intelligente il manipolatore diciamo cercherà in qualche modo di comunque di rovinarti un'altra cosa che possiamo fare questa presa presso dei narcisisti è un po' di love bombing un po' di love bombing in alcuni casi può essere utilizzato non fatelo come i narcisisti a fine diciamo poi di togliere qualcosa ma dare qualcosa per poi togliere è una strategia che funziona anche perché noi esseri umani abbiamo l'immagine dentro di noi incisa l'immagine della perdita perché se ci pensate di fatto perdiamo tutto perdiamo la giovinezza perdiamo la vita nel senso che prima o poi moriremo perdiamo tante cose quindi per non perdere diciamo il love bombing o l'amore che una persona magari simula anche di darti beh siamo disposti a fare delle cose siamo disposti a coinvolgerci ecco queste sono tutte strategie tutte tecniche che possono essere utilizzate in modo proficuo e possono dare diciamo dei risultati ovviamente il tutto va inserito all'interno di un linguaggio non verbale che ci permette di capire se il semaforo è verde il semaforo è rosso il semaforo è giallo e quindi dobbiamo anche diventare degli attenti osservatori ad esempio delle microespressioni farò un corso sulle microespressioni chi mi segue sul canale Massimo Terramasco finito questo corso che adesso sto portando avanti su l'MBT ho un saluto a Eva Savi farò un corso proprio sulle microespressioni che sono molto utili e ci permettono di capire ad esempio quali sono le emozioni fondamentali ma anche altre emozioni non soltanto quelle base perché ad esempio nelle emozioni base c'è il disgusto che però poi diciamo spesso viene visto come disprezzo disprezzo e disgusto sono due cose abbastanza simili bene comunque non vedo domande quindi comunque iscrivetevi al canale attivate la campanella seguitemi su Instagram su TikTok e su tutti i canali YouTube perché